Importante appuntamento per sabato, quindicesima edizione di auto motostoriche in centro storico, quali sono le caratteristiche di questa annata? Quest'anno come tutte le precedenti edizioni avremo la possibilità di esporre le nostre auto, bellissime auto in centro storico, quindi tutte le piazze più importanti di Ferrara, quindi Piazza Castello, Corso Martire, Piazza Tendo Trieste, ci sarà un'esposizione statica di circa 140 auto e 40 trattori d'epoca. Le auto saranno rigorosamente selezionate ed esposte in modo ordinato con una precisione certosina da parte dei nostri soci e alla fine verso le 18 sfileranno nel centro e verranno presentate una ad una in modo da raccontare un po' la storia dell'auto a partire dagli anni 20 fino agli anni 2000. Quindi insomma un appuntamento importante, un appuntamento che affascina sempre a Ferraresi ma immagino anche tanti turisti. Sì, normalmente è sempre molto partecipato a questa manifestazione perché comunque l'auto storica piace a tutti, cioè donne, uomini, bambini, anziani, per cui è sempre un piacere vedere le auto che ricordano la tua infanzia, la tua giovinezza, insomma è una cosa che piace, per cui siamo anche, diciamo, orgogliosi di organizzare questa manifestazione nel nostro centro che sarà in questo caso dedicato al nostro mondo, diciamo. Quindi l'Officina Ferrarese è ancora promotrice di queste iniziative che in qualche modo rievocano anche la storia dell'auto e quindi ci porta anche in tempi lontani ma ovviamente auto sempre curatissime. Sì, noi abbiamo la fortuna di avere un numero importante di soci, abbiamo circa 1000 soci su territori anche nelle province di Bologna e di Modena e appena abbiamo lanciato l'appello per la manifestazione e subito abbiamo esaurito i posti che sono 140 per cui c'è grossa partecipazione a questa manifestazione e come dicevo le auto saranno rigorosamente selezionate per cui sarà un momento anche di cultura importante per chi vuole approcciare a questo mondo.